Il papà la conosce bene e quindi la... Secondo, questa mattina quando uscivo era lì il senatore Sanders che era venuto al convegno della Centesimus Anus. Lui sapeva che io uscivo a quell'ora e ho avuto la gentilezza di salutare. Ho salutato, ho stretto la mano a lui, alla moglie e a un altro matrimonio che era con lui che si alloggiavano in Santa Marta. E io quando sono sceso lui si è prestato, ho salutato, una setta di mano e niente di più. È educazione questo. Si chiama educazione e non mischiarsi in politica. E se qualcuno pensa che dare un saluto e mischiarsi in politica le recomendo di trovare uno psichiatra.